Ahah Questo sì però Non sono abituato a me c'è una versione vicino Si ma mi vedi però da lì, mi vedi che ci sono Allora fammo così vai Eh ma io saluti li faccio con la mano così Non è che Usa la destra Mi hanno disfantato, ho fatto male No Hi dears, it's Chiara Welcome or welcome back to PowerCoins channel avrete già intuito che il video di oggi è molto speciale per varie ragioni innanzitutto perché qui con me c'è il mio collega Luca che parla benissimo lo spagnolo e che quindi potrà rivolgersi a tutti i nostri amici spagnoli vero Luca? Claro che si! Hola a todos soy Luca e estoy muy contento di estar acá con ustedes e spero di estar acá con ustedes también para otro video ed io invece sto parlando in italiano per chiacchierare con tutti i nostri amici italiani quindi anche con loro but don't worry All our customers can find the subtitles in English on the bottom of the video so go turn them on ok presentazioni finite iniziamo la recensione di oggi che a tema con questo video sarà piuttosto speciale ed originale si perché non solo le traemos una moneda sino vien 3 moneda differenti che tenemos la silver fortune la la kipanda il l'altro non me acuerdo si tartole si tartole sono tre moneda particolare perché tiene forma particolare iniziamo dall'ultima arrivata in casa power coin ovvero silver fortune una bellissima moneta d'argento da un oncia che presenta un'incredibile forma a quadrifoglio ideale per augurare buona fortuna a coloro a cui vogliamo bene regalella regalella la moneta presenta dei dettagli davvero incredibili grazie alla tecnologia smart minting e viene fornita in questo cofanetto piuttosto elegante insieme al certificato di autenticità non dimentichiamoci tra l'altro di un dettaglio molto importante al world money fair 2018 a berlino abbiamo potuto ammirare silver heart la prossima uscita di questa serie che attendiamo tutti con ansia e hablando di notizia del world money fair 2018 tambien dobbiamo menzionare al pinguino imperaor la prossima salida despues del panda la suerte ti acuerdas Chiara? ovviamente lo sai che adoro gli animali e questa serie è una delle mie preferite di casa shit e mentre speriamo la entrega del pinguino imperaor possiamo parlare di Lucky Panda questa hermosa moneta di plata di 88 gramos questa moneta muestra un bebe panda jugando con su madre la moneta sta acuñata con forma di panda e con un alto rinieve excepcional grazie alla tecnologia smart minting claro e viene in una elegante caja negra junto con il certificato di autenticità tirada limitada a solo 888 piezas del mondo così che non perdano demasiado tempo se chieden tenere questa hermosa moneta in su collezion personale beh parlando di animali e di monete con forme particolari è impossibile non citare sea turtle esistono tantissime monete che raffigurano questo animale marino ma secondo me nessuna ha questi rilevi questi dettagli e questa incredibile forma vero assolutamente questa moneta d'argento puro pesa 45 grammi ed è dedicata appunto alla tartaruga marina una specie in via di estinzione la moneta è caratterizzata da altissimi rilievi e dettagli unici grazie ovviamente alla ben nota tecnologia smart minting adoro anche l'elegante cofanetto color tiffany nel quale è presentata la moneta accompagnata ovviamente dal certificato di autenticità in questo caso la tiratura è limitata a 999 pezzi in tutto il mondo che comunque non sono pochi giusto? no para nada e ovviamente puoi incontrare tutti i prodotti menzionati nel nostro sito web oficial che incontrano qui abajo e non dimenticate di iscrivervi al canale e di seguirci su tutti i nostri social network see you next friday and remember collect invest enjoy ciao 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 ciao